Musica Di incontro con questi ragazzi cosa ti ha colpito di più? Sono curiosi e questa è una cosa molto bella onestamente l'ho anche invidiata un po' perché quando ero bambina non avevo l'opportunità di partecipare a un festival e confrontarmi direttamente con sionisti di vari settori legati al cinema e mi sarebbe piaciuto molto perché capisci subito delle cose, perché quando sei bambino fantastichi su come puoi essere ma quando te lo spiegano che è un lavoro che ti sveglia alle 4 del mattino che è un lavoro principalmente perché l'ora di squadra perché il cinema come la televisione di squadra perché se tu arrivi su un set ci sono tanti reparti che fanno il loro per poter mettere insieme un film e questo serve anche per gestire un ipotetico ego che potrebbe sempre straripare e infatti io dico sempre che io faccio parte del settore le citazioni un festival dedicato ai giovani un'attrice giovane e bella che messaggio possiamo dare a questi ragazzi? la prima cosa è di non farsi scippare il futuro perché siamo un paese che è un po' carente di immaginazione sul futuro ma l'unico modo per poterlo immaginare è difenderlo so che sembra un paradosso ma io sono dell'idea che le cose se vogliamo ce le andiamo a prendere e per andarsene a prendere bisogna essere preparati seri affidabili e pulire chi crede che sia facile fare un percorso di questo tipo? chi crede che sia facile basta che ci provi così lo capisce che non è facile perché facile non è niente nella vita ma forse se fosse davvero così semplice non sarebbe così speciale è una scommessa l'attore in sé è un pazzo con una valigia piena di emozioni che scommette sul suo cuore non tutti hanno la sensibilità per riconoscere un cuore e qui significa che devi combattere per far sentire le emozioni devi accettare le sconfitte perché essendo un lavoro fatto anche di immagini tu potresti tranquillamente non avere l'immagine giusta come potresti avere l'immagine giusta ma non avere il cuore giusto quindi devi sapere accettare anche quando non sei tu e quindi riprovarci è un lavoro complicato ma la prima cosa che bisogna ripetere ai ragazzi è che è un lavoro è proprio un mestiere e va fatto con amore e dedizione perché siamo tutti sostituibili come in tutti i mestieri